Per aiutare con le spese, abbonati al Cugino Caradese Ecco, stamattina mi sono alzato e ho guardato st'apparecchio che è un apparecchio collegato di fuori a un sensor che ti dà la velocità del vento, la temperatura, la umidità, la pressione barometrica, direzione del vento, eccetera, e che dovrebbe dire la previsione del tempo. Secondo st'apparecchietto, a guardare qui, dovrebbe esserci soleggiato con qualche nuvola. Allora, io mi sono alzato, ho visto quello e ho detto, beh, una bella giornata. Poi ho guardato di fuori e di fuori è così, neve abbondante, seminebbia, pazzesco.